In viaggio verso l'Ucraina, con un carico di palma, c'è un'ambulanza che resterà in dono al popolo martoriato dalla guerra. La colonna di mezzi aiuti umanitari è partita stamane dalla sede della Misericordia di Atipad. In campo le confraternite di San Mango, Monte Falcione e Prata. Ma tutte le misericordie della campagna hanno collaborato per rendere possibile questa spedizione, sottolinea il consigliere nazionale delle confraternite Marco Curcio. Curcio, quando il terremoto del 23 novembre del 1980 devastò San Mango sul calore, provocando anche 65 morti, era bambino. Ma anche attraverso i racconti dei suoi genitori ha vissuto quella che per tutta l'Irpinia fu una catastrofe. Nel post terremoto, ancora tra le macerie, la nostra provincia, ricorda, fu presa per mano dai volontari provenienti da ogni parte del mondo. È doveroso ora tendere la mano a chi è precipitato nel baratro come il popolo ucraino. Le confraternite delle misericordie scese in campo sono tutte quelle della campagna. Oggi ad affrontare questo viaggio c'è la misericordia di San Mango sul calore, la misericordia di Prata Principato Ultra e la misericordia di Monte Falcione. Stiamo portando, Ottavio, due furgoni cabinati pieni di farmaci, un'ambulanza piena di farmaci, tra l'altro come ti dicevo prima l'ambulanza della misericordia di Prata resterà in Ucraina perché la misericordia di Prata ha deciso di donare un'ambulanza per l'emergenza. Abbiamo un pulmino, nove posti, sempre pieno di farmaci che poi ci servirà per il ritorno per portarci qualche persona che dovrà raggiungere la campagna. Lo dobbiamo, lo dovevamo perché ci dobbiamo sempre ricordare, Ottavio, che quando siamo stati colpiti dal terremoto dell'80 abbiamo avuto aiuti da tutte le parti del mondo e quindi oggi penso che era doveroso fare questo oggetto. Io ci tenevo a ringraziare con tutto il cuore alcune cooperative e un'azienda. La My Rent Service che ha messo a disposizione due furgoni a titolo gratuito. Poi abbiamo avuto le cooperative della provincia di Avellino come la Cirella, il Sorriso, Intra, Socrate. Loro copriranno tutte le spese per affrontare il viaggio per l'andata e per il ritorno.